Benvenuti nel corso dei sistemi operativi. Penso che tutti abbiate la percezione di cosa sia un sistema operativo, quando usate un pc a casa vostra, quando usate uno smartphone. Siamo operativo, è uno stato software, quindi possiamo dirlo come un insieme di programmi che ha il compito di gestire le risorse hardware in un sistema di elaborazione. Perché studiamo i sistemi operativi? La conoscenza dei meccanismi di gestione delle risorse del sistema operativo consente di scrivere programmi più efficienti. Quindi l'obiettivo di questo corso è quello di presentare questi meccanismi al fine di aumentare la maturità di un sistema di elaborazione e quindi scrivere programmi, per esempio programmi concorrenti, paralleli, quindi che siano più efficienti. Il sistema operativo è anche un contesto naturale dove puoi poter spiegare i principi della programmazione concorrente. Pensate che un sistema operativo odierno, anche quello di uno smartphone, esistono più programmi in esecuzione in un dato istante e le risorse sono in numero molto minore rispetto a questi programmi in esecuzione. Quindi questi programmi dovranno essere coordinati o si dovranno coordinare tra di loro per utilizzare le risorse. Quindi il sistema operativo è un contesto naturale per poter introdurre i meccanismi di programmazione concorrente, il quale faremo in questo corso. L'evoluzione dei sistemi operativi è guidata dall'evoluzione hardware. Pensate che nel 1980 i processori arrivavano a una velocità massima di un MIPS, un milione di istruzioni per secondo. Oggi almeno 100.000 volte più veloci. Quindi i primi sistemi operativi erano sistemi cosiddetti monoprogrammati. C'era un piccolo loader, ovvero caricatore, che aveva il compito di caricare un programma in memoria e poi questo programma veniva eseguito. Durante l'esecuzione un programma avrà degli istanti in cui utilizzerà il processore, quindi per dell'elaborazione, in altri istanti in cui chiederà, per esempio, l'accesso al disco, per esempio per caricare una struttura dati o per salvarla. Quindi durante l'arco di tempo in cui il programma è un'esecuzione il processore non sarà completamente utilizzato, ma ci saranno momenti in cui il programma aspetterà, attenderà quindi l'esecuzione di un'operazione di I.O. e ci saranno momenti in cui il programma in esecuzione utilizzerà direttamente la CPU. Col crescere della velocità delle CPU ovviamente si riduce pesantemente l'efficienza di utilizzo della CPU. Dove l'efficienza di utilizzo della CPU, che cos'è? È il numero delle volte in cui usiamo veramente, il programma usa veramente la CPU, col tempo diviso il tempo totale. Quindi se per esempio su un'esecuzione di 100 secondi un programma in esecuzione utilizza solo 10 secondi, bene, l'efficienza sarà 10 diviso 100 e quindi sarà del 10%. Al fine di aumentare l'efficienza di utilizzo della CPU, bene, in una successiva fase, quindi siamo fine anni Ottanta, inizio anni Novanta, i sistemi operativi diventano multiprogrammati, ovvero sistemi operativi in cui più programmi potevano essere in esecuzione in un certo intervallo di tempo. In questo modo ovviamente quando la CPU non era attiva perché un processo sta aspettando un'operazione di I.O., si può in qualche modo allocare la CPU ad un altro processo, ad un altro task. L'essenzione logica, diciamo, di un sistema multiprogrammato sono i sistemi time sharing. I sistemi time sharing sono quei sistemi operativi che privilegiano l'interattività dei processi. I sistemi time sharing, il tempo del processore è diviso in quanti e questi quanti vengono allocati a processi diversi. Dagli anni 2000, quindi fino agli anni 90, ad oggi si parla dei sistemi operativi distribuiti, sistemi operativi transazionali, insomma il mondo dei sistemi operativi sta evolvendo secondo dei parametri che potremmo dire in prima approssimazione come parametri di qualità.